Le strategie vaccinali per il prossimo autunno, ASL e Università insieme oggi in un momento di approfondimento importante per addetti ai lavori in vista della campagna che sta per partire, con il prezioso contributo del professor Dieraci, vaccinologo della Cattolica, campagna che seguirà le indicazioni del Piano Nazionale. L'ASL però è pronta con il suo piano, non si tratterà solo di una campagna vaccinale anti-influenza perché come spiega il dottor Gian Sante ci saranno altre vaccinazioni, ma anche il vaccino Pfizer aggiornato alla nuova variante che si consiglia per alcune categorie. La libertà riconquistata non deve indurre in errore, è importante continuare a vigilare. Il 10 ottobre partiremo con la campagna di vaccinazione che quest'anno non chiameremo anti-influenzale, ma chiameremo campagna di vaccinazione contro tutte quelle che sono le potenziali malattie che possono capitare in particolare durante l'autunno. Faremo contemporaneamente, offriremo contemporaneamente quella che è la vaccinazione anti-influenzale, la vaccinazione anti-Sars-CoV-2 che è praticamente l'anti-covid, l'anti-pneococcica, anche l'anti-herpes. Sono possibili le cosomministrazioni, generate due vaccinazioni in due siti diversi da fare nella stessa giornata. Ora devo dire che uno dei pericoli che io vado a ravvisare in questo momento è che la riconquistata libertà dopo un periodo terribile che c'è stato, sono stati tre anni di covid che ci hanno limitato anche nella libertà personale, potrebbero far calare quella che è l'offerta vaccinale. In realtà noi stiamo pensando a delle importanti campagne di comunicazione, invitiamo tutti a fare la vaccinazione anti-influenzale e su quello la risposta è già abbastanza importante. Il nostro timore è che possa calare invece la percentuale, soprattutto negli ultra 65 anni, della vaccinazione anti-covid che oggi viene percepita come meno importante. È fortemente consigliata dai 65 in su? È fortemente consigliata dai 65 in su, è fortemente consigliata per le persone che hanno patologie, possiamo dire immunodepressi oppure malattie importanti. E poi in tutti gli operatori sanitari, ritorniamo anche al concetto delle persone che sono a contatto con persone fragili. L'offerta è importante, abbiamo vaccini aggiornati alla nuova variante per quanto riguarda il covid, vaccini anti-influenzali che sono aggiornati a quella che è stata, come sapete, l'epidemia che c'è stata nell'altro emisfero, quindi siamo perfettamente pronti ad affrontarla.